E salve a tutti quanti, io sono Terrenas e benvenuti a questo nuovo episodio di The Witness Allora, siamo arrivati a sei laser, questo implica che ne manca solo uno per poter aprire la montagna La montagna è laggiù dietro in fondo, qua sono riuscito ad arrivare a questa zona attraverso la barchetta che abbiamo già visto in un episodio passato Allora, questa zona l'ho vista un'altra volta dalla distanza ma non sapevo come effettivamente arrivarci Adesso ci sono effettivamente arrivato, vediamo cosa devo fare Non sarà per nulla facile secondo me, allora, che cos'è questo? Salve! Beh, questo è stato facile, ok, quindi soli abbiamo una nuova cosa da imparare immagino Boh, facciamo qualcosa Va bene, sembra essere abbastanza semplice E qua cominciano i casini come immaginavo Ok, quindi, ah guarda, mi sa che ce ne sono multiple sotto, ok, ok, ok Allora, come potrebbe essere la regola dei soli? Ehm, oh cavolo Che cosa cavolo è sta roba? Ok Cos'è che ho fatto effettivamente? Li ho tenuti nella stessa area? Resumo sia quello? Proviamo a vedere se funziona effettivamente così In questa maniera sono rimasti nella stessa area Ok, 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 quindi la regola di questo puzzle è tenerli nella stessa area Ah, devo, devo, aspetta No, perché non va bene? Cos'è, devo Devo separarli? Tipo così? Sì, devo, ok, i soli vanno in coppie Penso, non lo so Ehm, va bene Questo sarà interessante Allora, aspetta Così, tipo Così che ne abbiamo due per area Beh, dai, questo era abbastanza facile Ok, ok Non è troppo complicato questo qua È soltanto un attimo da capire come va fatto Allora Allora, allora Questo devo separarli Devo separarne due Tipo così Ah, beh, dai È troppo fa Porco cane Quindi tipo così Oh yeah, baby Sono troppo forte Questo cos'è? Qual è la differenza tra? Ah, aspetta Oh, cavolo Tipo così? Oh, sì, ha funzionato No, vabbè, dai Diventano sempre di più Sti cazzo di soli Allora, aspetta Calma il sangue freddo No Non va bene così No Allora, aspetta Per forza di cose Deve essere qualcosa del genere Così? No, perché questi due Questi qua condividono un'area comune Mi sa almeno Aspetta Condividono Sì, condividono un'area comune Ok, adesso diventa un po' più difficile Ok, interessante 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 Adesso diventa più arduo Più tosto Ma se fosse qualcosa di molto più semplice No E così lo blocco purtroppo Così? Così li ho separati tutti Sì, li ho separati tutti quanti in due Yeah Mamma mia Ok, quindi devo separare i soli a coppie Ok Ok Aspetta No, così non va bene Così? Mamma mia Quanto sono forte Stasera sono un bello carico Un caffettino fa questi effetti ragazzi Ah Pronti Partenza via Vediamo cosa c'è per di qua Mamma mia Che casino sta qua Oh santissimo Zeus What the fuck? Ah tipo devo Oh Gesù santo Tipo c'è quello verde C'è quello arancione Perché ne abbiamo visto una Allora no, partiamo dall'inizio Perché queste cose cominciano a diventare un po' complicate Aspetta, guarda qua Guarda qua che complicato che diventa Cos'è sta roba Questo cos'è Ah è tipo un timer Devo raggiungere quella Ok ho capito Ok ho capito Ho capito Ho capito Quindi entro un certo lasso di tempo Devo raggiungere quella piattaformina Ok Oh mamma Che cavolo fai qua E no mancano i tre punti neri E questa è la cosa Qua come fai? Ah così? Ok Quindi questo qua mette insieme i soli e i punti neri Va bene Va bene Va bene Questa è un attimo da capire qua È un po' noioso Però niente di troppo drammatico Allora No così si separano Così No così non funziona Ah aspetta 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 È molto più semplice Così 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 Ah a posto Uh questo è già più arduo eh Beh scusa aspetta Non No non è troppo difficile No invece un corno È abbastanza difficile Perché Se vado per quelli agli angoli Eh basta che li tengo così Basta che rimango io attaccato al più possibile al muro Ok 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 Queste qua invece sono quattro Quindi devo dividere i due gruppi Eh no Così non posso Aspetta Devo farlo un secondo prima Così 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 Ah questo era troppo facile What the fuck Ok Devo quindi dividerlo a coppie E passando attraverso No come cavolo fai Spero che sia così Mamma mia Ma quanto sono forte oggi Sono un dio Cioè Bo easy cazzo Ok ok Quindi questa parte è fatta Maledizione Ok quindi Ah Ah bianchi e neri E soli Quindi devo separare i bianchi dai neri E unire Ah ok Non c'è preferenza per le due Mannaggia però eh Ok È un attimo complicato Però è fattibile Così Certo che Wait what the fuck Ah Qua hanno fatto il mind trick Guardate Vedete che le stelle sono bianche I quadrati sono arancioni Ho provato a fare il mind trick Oh 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 Aspetta Ma quindi quale segue quale regola Merda Questo è un problema Allora aspetta Se devo separare Mi sa che devo fare brutalmente proprio così No No non va bene Ok allora i neri devono stare con i neri Gli arancioni con gli arancioni Come cavolo fai What the fuck Ok Allora No basta che li separo no Teoria No aspetta così non va bene Così dovrebbe andar bene Gli arancioni con gli arancioni Le stelle stanno in coppia Vai così Vai così Cazzo E la cosa che stanno buttando dentro Più colori possibile Solo per fottere col mio cervello Mannaggia No aspetta No Perché poi Cacchio Non è per niente facile Allora aspetta No eh c'è quel Quel povero viola Che è un po' Escutito Aspetta così Ah 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 No vabbè Dai Cos'è sta roba Ok Va bene No così non divido le due cose Così No Ci sono le due coppie di Oh mamma mia Ok così sono separati questi Eh cazzo Quegli arancioni Sono quelli che mi fregano adesso Quei due arancioni No c'è tipo tutto No ci sono quelle Marda E quello è il problema È difficile a chiudere questo qua Ok aspetta aspetta Proviamo Una cosa del genere Davvero ha funzionato Pensavo che i verdi Mi avrebbero rotto il cazzo Invece no A quanto pare non è un problema Eh ciao Cos'è questo Ci sono le stradine rotte E quello è il problema Ok 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 Calma il sangue freddo Aspetta Allora così No 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 aspetta Così Perché non va bene Sono accoppiate le stelle così Scusa eh No così No così sono Merda Aspetta Proviamo così No Cazzo Ok questo è chiuso così Questo è chiuso così Eh no Così Maledizione oh Non è per niente facile questo Allora aspetta Ok così ho due stelle E sono separate Oh Come non va bene Sono accoppiate Ah no non sono effettivamente A capire Ops Allora aspetta Così Così Ah Perfetto Andiamo avanti Ma porco cane Quello là mi sa che Quello là Arancione È quello Qui devo andare Beh scusa Perché c'erano tutte le altre Piettaformine Allora non ha senso Sta cosa Allora devo fare Ok No questa volta Non è così semplice Cos'è una nuova regola No 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 È soltanto un modo Per cercare di Fottermi What the fuck Ah ok Vuole rimanere da solo What the fuck Eh vecchio Che cazzo è sta roba Sei una stella nera E sei l'unica stella Che c'è Eh che cazzo What the fuck Che cazzo devo fare Oh No 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 Poi non vengono separati quelli Boh Devo metterlo con un nero Non lo so What the fuck Sei serio Ha funzionato Quindi la regola adesso È mettere la stella Con lo stesso colore Quando C'è deve stare in coppia Quella stella Ma se non c'è una seconda stella Deve Che cosa stupida No perché Ah Ops No Così Sì Aha Questo invece è il mind trick Che prova a fregarci Eh no Quei due colori Stanno nella stessa casella Così Eh no Di nuovo stanno nella stessa casella Quelli due Ok È un po' strano Cioè Capisco come funziona Ma non è per un cacchio facile Ah giusto No Deve essere Cacchio eh Deve essere Ma scusa What the fuck Scusa eh No No Quello è da solo Se no Cazzo è sta roba Allora non può stare nella stessa area Dei verdi Ma deve avere Un'area condivisa No perché poi Quello è da solo What the fuck Come fai Ci deve essere un modo per forza Dobbiamo mettere nella stessa casella Il rosa e il ver- E i verdi Da soli No aspetta Unico modo per escluderli sarebbe qui Così No perché poi quelle là non condividono più un'area insieme Allora Ok 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 ci siamo quasi Allora 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 Calma il sangue freddo Che cosa cavolo è sta cosa Ok 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 Calma Devo associare le stelle ad uno rosa Mettere il rosa negli stessi colori e i verdi separati E ci sono tre uscite Ok 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 calma No 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 Fermo 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 Devo mettere quelle due stelle insieme nella stessa area What the fuck Come dovrei fare Sono agli angoli opposti Ok ok no Cos'è Allora Unico modo per metterli in coppia Tipo Così Ok E questo qua Devo Se No devo mettere Ok no 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 Allora No 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 perché devo separare i verdi Cavolo Aspetta un attimo ragioniamoci 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 Aspetta ma ci sono due stelle Sono stupido E qua mi permette di arrivare qui Che è il laser O sbaglio Ok Quindi in teoria se ora Faccio la corsa suprema della vita Dovrei in teoria riuscirci Quindi Mamma mia è veramente lunga la strada Ok 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 ci posso provare Tre Ok 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 vai 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 forza che ce la faccio Nooo ma dai come fai è impossibile è troppo lontano Aspetta ma non è che finisce tipo lì la piattaformina aspetta continuiamo con questi Ok Proviamo a vedere dove finisce la piattaforma così capiamo Madonna con ste ombre del cazzo Vi giuro non capisco niente Allora Mamma mia sto qua che cazzo dovrebbe essere Cosa che devo ragionarmela Devo separare i neri dai bianchi Posso fare una coppia di stelle Ma Scusa Domanda stupida Potrebbe essere Così semplice Sì è così semplice Maledizione a me Ah 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 Mamma mia quanto so forte Ti prego dimmi che non finisce lì quindi Eh no questo qua Maledizione io sto cercando di capire perché non è per niente facile Allora Devo separare di nuovo Separare i bianchi dai neri Cos'è che finirà per essere una troiata pazzesca Ma scusa sono stupido Guardate così separato Sì Mamma Ma quanto sono scemo Così E sono arrivato in fondo ma Ma non c'è niente quel fondo Ma porco cane ma ti pare Cioè ho fatto tutta questa strada Ah beh non potevo non fare Cioè dovevo farla per forza Perché sennò non arrivavo fino alla fine di quel ponte Adesso devo andare a costruire l'altro lato del ponte Corretto o sbagliato Allora Ok aspetta Quindi Posso sia separarli che tenerli uniti What mate Ok Quindi posso fare coppie di coppie Ma non What mate No Qui I due arancio devono stare insieme Tipo così Oh yeah baby Ci sto riuscendo Allora così Così Mamma mia Sto diventando un pro Ok questo qua non è neanche troppo difficile Perché non sta andando in quella direzione Cazzo Aspetta ma scusami C'era uno Questo qua Dov'era? 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 Ok e mo come cazzo lo collego Devo andare per forza di cose Se vado su quella sinistra Arrivo a quella piattaforma Così che possiamo unire il tutto Chiaramente Ok Aspetta da qua posso accedere a questa? Sì Sì che posso accedere a questo Mamma mia quanto sono bello E forte e intelligente Mamma mia No allora Devo per forza di cose fare così Oh no Merda Ho già una brutta sensazione No cazzo E questo qua come il cavolo si risolve Aspetta Ragioniamoci Ragioniamoci Serve soltanto un paio di ragionare Così Oh mamma mia Eh vabbè Vaffanculo però Me ne andate proprio a fare stronze Ma no Questa era facile Oh oh Quindi adesso Basta che faccio Devo entrare qua dentro subito E devo attivare questo Presumo che attivi il laser questo Fammi vedere Oh sì baby Attiva questo laser Of doom Oh mamma mia Ce l'ho fatta Ah La casa sull'albero è pronta Quindi ragazzi Manca Cioè ci sono altri laser Perché in teoria puoi accenderne Fino a 11 Però io voglio arrivare al finale Voglio andare a vedere che cosa c'è sulla montagna Sulla montagna basta che vengano puntati 7 laser Quindi ne ho fatto uno in più Perché non ci va effettivamente dentro Vaci Dagli di laser stronzo Dagli di big laserone Mira correttamente Baby Mira correttamente Guardalo come punta Guardalo come punta la montagna Boom Oh Io direi che andiamo a vedere che cosa c'è sulla montagna ora Ed eccoci qua Proprio come previsto si è attivata qua Nel tutto Vedete questi 7 sportelli 1 2 3 4 5 6 7 Si sono attivati tutti quanti E hanno rilasciato questo qua Ragazzi Io lo voglio fare Nei prossimi due episodi Fare il finale Se vogliete Il prossimo episodio Il primo possibile Invece di dover aspettare di nuovo Due settimane Buttate un bel mi piace Se arriviamo a 500 Ve lo porto settimana prossima Promesso Ragazzi Ci vediamo al prossimo video Io sono Terenas Bella Ciao